Ennesimo episodio di aggressione al personale sanitario delle strutture ospedaliere. Questa volta è stata un'infermiera del pronto soccorso di Pesaro ad essere stata malmenata e presa a calci da una 32enne straniera fuori controllo, arrivata per una visita ma che ha dato in escandescenze prendendosela con la malcapitata operatrice sanitaria che ha rimediato lesioni per sette giorni di prognosi. Infermiera che è stata aiutata dai colleghi nel disinnescare la furia della 32enne che è stata poi arrestata dai carabinieri. Un episodio avvenuto nella notte fra sabato e domenica al quale oggi è piovuto una pioggia di solidarietà e sdegno. A cominciare dalla direttrice generale Nadia Storti che in un comunicato ha enfatizzato quanto si continuerà a promuovere e mettere in campo ogni strumento possibile per creare un ambiente di rispetto e sicurezza per tutti coloro che lavorano nel sistema sanitario nonostante siano già operativi tutti gli strumenti che la legge ad oggi consente di avviare. Dalle telecamere ai presidi di forze dell'ordine. Solidarietà alla quale oggi si è accompagnata quella della politica regionale. Non possiamo minimamente abbassare la guardia su questi gravissimi fatti di cronaca che riguardano i nostri operatori sanitari che già sono costretti a fare un lavoro complesso, difficile in un momento particolare. Quindi ho portato i saluti da parte della regione Marche, più che saluti la vicinanza, da parte mia, da parte dell'assessore Salta Martini, Presidente Acquaroli e tutta la regione, il Consiglio regionale per esprimere tutta la solidarietà a questi ragazzi che si trovano spesso anche in queste situazioni. Abbiamo parlato anche con il primario, il dottor Tito, un po' delle problematiche che rivestono il pronto soccorso su quello che la direzione sanitaria sta già facendo per cercare di formare un deterrente per queste cose, per queste situazioni. e mi sono permesso di parlare, di evidenziare che è un problema che da un lato deve essere risolto come struttura, come deterrenza, con telecamere e altre situazioni, visto che comunque la guardia H24 è stata introdotta, ma sicuramente non è sufficiente perché se all'esterno dell'ospedale ci ritroviamo in situazioni di degrado, come sto vedendo in questo momento, sicuramente è un lavoro molto difficile da portare a termine. Quindi da un lato la direzione sanitaria deve fare il suo per proteggere i propri dipendenti, dall'altra parte le forze di polizia, il comune stesso, devono percepire che questa è una zona assolutamente degradata e l'ingresso continuo di questi avventori che vanno a disturbare gli operatori sanitari non può essere più tollerabile, è l'ora veramente di finirla.